Il bicentenario della scuola di cavalleria dell'esercito italiano fa tappa a Barletta. La squadriglia, partita da Lecce lo scorso 30 settembre, attesa a Roma il 27 ottobre, passa da un avamposto storico per i militari italiani nella città dell'82esimo reggimento, Fanteria Torino. I giardini del Castello Svevo hanno accolto i mezzi e le attrezzature utilizzate in azione con grande partecipazione dalla cittadinanza. Chiaramente Barletta è stata scelta come tappa del binomio che è partito da Lecce, dall'attuale scuola di cavalleria, per festeggiare i 200 anni della fondazione della scuola di cavalleria. Barletta è una città importante, una città decorata al valore militare, una città che storicamente nel XVI secolo ha avuto un evento dove per la cavalleria è stato un importante evento. Non a caso la città ricorda chiaramente ancora oggi la disfida di Barletta e noi su Barletta abbiamo anche l'82esimo Torino, proprio per ribadire la presenza dell'esercito sul territorio pugliese e in particolare nella città di Barletta. Il forte legame tra Barletta e l'esercito italiano si rinsalda nella tappa della scuola di cavalleria. Il viaggio della squadriglia in occasione dei suoi 200 anni proseguirà verso Piazza di Siena a Roma, dove si ricongiungerà con i compagni di reparto partiti da Venaria Reale. L'esercito è al servizio della comunità nazionale. Il fatto di avere qui tanti ragazzi delle scuole e tanti altri concittadini che sono venuti per vedere il passaggio a cavallo del binomio che dovrà aggiungere poi a Roma non fa altro che testimoniare il connubio costante che esiste fra l'esercito e la sua cittadinanza. Noi siamo parte viva di questa cittadinanza, siamo al servizio dei nostri concittadini e quindi non può che essere un momento di piacere quello di avere qui con noi tutti questi ragazzi in questa giornata.